Unisco la mia voce a quella dei Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola, a Ham-Kinkebe, nel nord-ovest del Paese. Preghiamo per queste ragazze, perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo insieme. Preghiamo la Madonna perché le custodisca.